Scettici dell'oltre I fenomeni fisici servono a convincere gli scettici dell'oltre? Commento Non è mai esistito e mai esisterà un fenomeno che possa veramente costituire una prova. La prova infatti è cercata dalla mente. La coscienza non ha bisogno di prove. I fenomeni fisici, apparentemente spettacolari, sempre che siano genuini, non convincono chi non è pronto. Il modo migliore per convincere chi osserva è diventare un esempio di ciò che insegnano i maestri immateriali.